Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e BV1 variante in direzione di Bologna. Sulla Firenze Mare restano rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e BV11A1. Arriviamo in FIPI e lì rallentamenti per lavori tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est nei due sensi di marcia. Prudenza inoltre per pioggia tra Firenze e Livorno. Voltiamo pagina per il traffico aereo. Ricordiamo che è in corso quest'oggi, venerdì 15 dicembre, uno sciopero di 24 ore del trasporto aereo. Numerose le cancellazioni dagli aeroporti di Firenze e di Pisa. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, la biglietteria di pescia quest'oggi è chiusa al pubblico. Muoversi in Toscana Infine è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio! Grazie a tutti!